Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Persistono condizioni di maltempo sull'Europa centrale e sul Mediterraneo, in seguito all'aria fredda giunta dalle regioni artiche nei giorni scorsi, che sta favorendo lo sviluppo di fenomeni diffusi accompagnati da drastici cali delle temperature. Sull'Italia avremo ancora precipitazioni diffuse soprattutto al nord, con alternanza di brevi schiarite che nella giornata odierna interesseranno maggiormente il sud Italia. Generalmente le condizioni meteorologiche rimarranno per lo più perturbate per quasi tutto il weekend. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 8 ottobre. Al mattino ancora fresco, con cieli sereni su entrambe le regioni. Il proseguo della giornata, fortunatamente, non ci riserverà precipitazioni su nessun settore. Solo qualche nube innocua andrà a coprire i cieli della Basilicata interna e del Tarantino, ma in dissolvimento dalla sera. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, stazionare le minime. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, in particolar modo sul centro-sud della Puglia. I mari, più mosso il basso Adriatico, calmi invece l'alto Adriatico e lo Ionio. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Ximbezati, che ci invia un suggestivo tramonto dalle spiagge Adriatiche, immortalato sulle rive albanesi nei pressi di Valona. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.